Bruciante sconfitta subita dal Manfredonia allo stadio Sampio di Bari nella gara contro lo United Slay, valida per la quinta giornata del campionato di prima categoria Girone A. Un primo tempo abbastanza equilibrato dove gli uomini di Agnelli hanno fronteggiato le scorribande degli uomini di Mister Quarto che non hanno mai impensierito il portiere Ciribe. Ma il gol per i padroni di casa arriva al 41esimo minuto del primo tempo, infatti lo United Slay passa in vantaggio con la rete di Colella. Nella ripresa il Manfredonia non entra mai in campo, infatti all'ottavo minuto subiscono la seconda rete, segna l'ex di turno Lacarra. Il Manfredonia non riesce mai ad essere pericoloso in area avversaria e al quindicesimo c'è anche la rete di Zotti. Sul finire di gara al 48esimo arriva il gol sul rigore di Pasquale Trotta che mette fine alla partita con il risultato di 3 a 1. E ora domenica prossima i Sipontini che restano fermi a 12 punti in classifica affronteranno in casa il Canosa.